cavolo abbiamo dovuto aspettare un sacco di tempo ma la fine è uscito non ci speravo così più benvenuti tutti qua sul canale in questo che sarà il primo video di tutta la serie difficoltà normale tra i background db sceglieremo un video di strada ovviamente beh per non appesantire troppo il tutto schippiamo direttamente la personalizzazione alla fine altra poco e questo è il risultato più o meno ora vediamo quali sono gli attributi belli beh nel dubbio fisico sicuramente qualcosa di bonus tutti gli altri equilibrati tranne intelligenza perché siamo persone molto geniali quindi facciamo le cose come si deve sì confermiamo belle nocche proprio come nuove il naso è messo anche meglio grazie oh no cavolo l'ho sentito fin qui che bello specchio questo è l'effetto del like o la cosa? la cosa? l'ho sentito che la cosa? Tu stai iniziando con Kirk? Ogni uomo, uomo, ratta e Haywood conosce che è un f*****o Il mio ragazzo ha saltato il giugno, riserva che i heroi è benvenuti Sì, lo so che f*****o Ci penso io E allora tu vai a vendere una Sì, lo so Sì, lo so Sì, lo so Intanto ammiriamo la grafica Madonna, che bello Spettacolare Per chi se lo chiedesse, siamo su PC Come scala grafica ci stanno a 2080s, quindi possiamo goderci un po' di raytracing senza esagerare Le impostazioni grafiche sono queste Ma raga, ci vede? Impostazioni, ecco qua Chiaramente molta roba sta ad alto o ad ultra, però non tutta Perchè Potrei anche alzare un po' di più Però preferisco avere 60 frame Ferrei proprio Dai Perchè vado lì? وتicare un po' di più Quasi Perchè 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 Quasi Perchè V, è stato un po' di tempo. Spendendo, cosa hai bisogno? Pepe ha chiesto di parlarti. Cosa, è troppo bambino a prendere gli Yeti? Dico a loro che non mi metto. Non ancora. Ma che cosa vuoi? Magna, magna, strunzzi. Cosa ti ha? Cosa, è un po' di confidanza. Cosa. Ma la cosa. Ma la cosa. Ma la cosa. Ehi, buona cosa. Ma, buona la buona. Ma, buona la buona. Ma, ti fai pagare. Ma, ti chiedi qualcosa di più. Ma, ti sembra come un prezzo che per un carico? Ti fai pagare gli Eti, devi pagare gli altri. Con interesse. È un comune, f*****o, conoscenza. Stai suggerendo che io lascio un f*****o che non può mantenere un negozio fuori del cuoco? No, lascio fuori perché è me che chiede. Ha! Tu lo conosci, sono un uomo delle vendite. Quindi ho bisogno di sapere cosa faccio fuori. Sai cosa, Kirk? A volte ho l'impressione di che ti dimenticare che non sei da qui. Proprio in Haywood per l'occasione, sicuramente. Ma tu vivi molto, molto fuori nel Pacifico. Che stai arrivando? Stai arrivando? Probabilmente devi pensare prima di iniziare qualcosa con il cuoco. Hmm... Sono aperto a altre opzioni. Che c***o vuol dire? Che c***o è questo? Prendi un guarda. Vabbè, vedo che quindi... Vabbè, vedo che quindi... Ma te sei un coglione! Non sono un uomo. Anche se chiede. Se chiede, un'errore come questo sarebbe un livello di più di me. Che, due livelli. La cosa bella è che una grand theft auto, come te, non bisogna di sapere come. Ho già ho avuto. Tutto è semplice. Sì. 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 Sicuramente andrà tutto bene. Non ci saranno imprevisti. Sarà tutto perfetto. Mi fido di te. Ma che c***o prendi per il culo, ma dai. Come si, come si, come si. Come si, come si. Sì. Per un po' di fai. Calcio e senso. In questo modo, le ruote di questo ha sistemi di sicurezza. Buoni. Ma questo, come si, funziona come la chiave che si usano per ripare. Albo la chiamata. Di solito, poi segnata di autorizzazione. Un'chia di schiavelli per tutti i ragazzi in la città. Ma che, anche tu non lo compravi. Non è vero. I tecnici di Kabuki vendono più cose magiche di questo sotto il conto. Tenete un po' fiducia. Allora, abbiamo tutti concordato. Guarda... te! Sai cosa fare? Sì, V. Il lavoro sarà anche a pagare la tua pagina, sai? E gli emersi nel Glen. Rick è nel garage. Stiamo aspettando per te. E tu hai scelto. E tu hai scelto qui. Siamo in conto. Ah, ero in l'ospedale oggi. C'è un po' di giù. C'è un po' di due. Ma che cosa c'è? E' un po' di giù. E il camion è più verso il suo... Non posso fare. Ma lo posso affor... Tu non ho capito? Ma non ho capito a fare. Ma che cosa c'è? Ehi, perché vedo nessuno di limone, nessuno di limone? Sono in là, sicuramente! Uuuuh, i riflessi, i cazzo di riflessi! Viva il Red Racing! Beh, forse. Ma solo perché un dollaro non ci faccio niente. Che paespa, che cavolo di... Euro-dollaro, cosa? Uè, sono arrivato! Beh, ciao! Beh, sono tornato. Sono arrivato in Atlanta, un po' di week ago. Sì, hai una buona domanda, benvenuto. Come era, Marquise? Ti raccomando. Ho qualcosa sul mio piatto. Ehm, come potete filmarmi in Atlanta? Ti raccomando. Marcus, andiamo! Hmm, gentilissimo! Ehm, come tu? Ehm, tu? Mi scordi a Embers. Ehm, tu? Ehm, tu? Ehm, Glenn. Mi scordi a Embers. Ehm, tu? 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 mi piace che non si è venuto come ti aspettavamo, o? Ehm. Ehm, tu? Ehm, tu? Ehm, tu? Beh? Chi ti ha dato la patente? Ehm, tu? Ehm, scimmia! Oh! C***o! Simpatico! Stopta la macchina! Cosa sta succedendo? Business! Ehm... Business, certo! Sebastian Ibarra. Si sembra che sia il mio successo giorno. Che vuoi? Per decidere il nostro bizzo, prima e per tutto. Ho un offer per te, Paddy, quindi ascolti. Ma che c***o sei? Vista! Pugli i tuoi figli fuori dalla strada. Ehm... Ehm... Questo è un duro! Ehm... Questo è un duro! Sì, sì! C***o! Sì, sì! C***o! Sì, sì! C***o! C***o! Sì! C***o! 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 Il sedia davanti mi sta triggerando tantissimo. Voglio vedere la strada! C***o! C***o! E come faccio a capire dove, scusa! C***o! 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 Ne so degrausi! Perchè, cheonghi by C***o! 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 O rema! C***o! C***o! Sarà una notte lunga per te Uh, posso prendere qualcosa? Bah Beh, tu fidesi pure Io nel dubbio non lo faccio Ma tu quanta cazzo è bella sta grafica Bello No, grazie Tanta roba Ci sono tutte ste macchine E poi ci sta merda in acqua Va bene Kirk Vedo la rida Tu è un momento per brillare, figlio Buona lucka Brividi Prendiamo questo pezzo di tecnica per un mondo Sei un uomo di piccola fede Vedo? Siamo ricchi Ora si chiama e mi chiamami quando sei sotto Diciamo dove andare Guarda che questo sarà una buona fredda Gli fai venti chilometri all'ora? Gli fai venti chilometri all'ora? Questa è un po' Questa è un po' Questa è un po' Questa è un po' Bello Hanno risolto molti bug al day one E' quando le macchie ai sedi del trasportano? E' dove li vedono Gli fai venti e lentamente Allora Con calma Con calma Jackie Wells La mia vecchia di vondele Cotto non c'è Unloppone Inizii Un po' Un po' Un po' Un po' Iniziamo Spreando Tu è successo anche Uzi Questo non è per me. Scusi per l'Atlanta, cercando un po' di felicità. Credo che non lo trovi. Ho sempre mantenuto, è lo stesso per tutti quei termiti di Haywood. Nascita qui, vivi qui, mori qui. Sembra che io ero certo. Scusi. La verità dolce, eh? Guarda la tua torre. Non sono un uomo paciente. Certo. Come on, Stintz. Diciamo un pochino, eh? Si tracciateci? Ci si tracciateci fino alla fine. E poi cosa? Il peggiorno. Abbiamo alcuni mesi. Noi, stai solo in Alvote. No? Probabilmente si tracciate prima. C'è un uomo paciente? C'è un uomo paciente. L'hanno in custodia, mister Fujioka. Ora prenderemo. È un pochino di esercizio. Non ho tempo di testificare o di spiegare in un'investigazione. Suggesti di lasciare un pochino? Suggesti di lasciare un pochino? Suggesti di lasciare un pochino in un pochino. piccolini, ragazzi. Colazione con panna e radiazioni. Tu li ascolti? C***o. C***o. Andiamo, dai. Aia. Ancora il c***o di naso! Ma dai, basta! Ma un po' di fantasia, no? Per un po' di fantasia, ci sembra un pochino. Non ero sicuro che ci saremmo vivere. C***o. Ancora. Stinti hanno bisogno di prendere le persone. Ma non è forte. Ma ci sono ancora un pochino di honore. Sì, credo che il suo senso di honore ha salvato noi? Beh, non troppo. E il fatto che è nato Hayward e c***o, come noi. Come avessi avessi avvicinato la città di night city e i voli sexy. Prima di continuare. Da notare il cartello più bello del mondo. Più soldi mi date ora, meno io ne rubirò voi dopo. Un genio. E allora? Beh. E' una trappola, dai. Il lavoro era toxico dal principio. Anche il Kabuki di controllo maggiore non si può fare un'allare come così. Deve avessi 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 avessi. Quindi, magari ora, ha il Signore di Dio. Jackie Will. V. E' un pochino. E' un pochino di Coyote. Beh. Perchiamo le potezioni di Coyote. E Kirk. Di lavorare su questo dal Slyro? No, proprio. Non è vero. E non lo so. E non lo so. E' un pochino. E non so. E' un pochino di Coyote. E' un pochino di Coyote. E' un pochino di Coyote. Coyote. Coyote? Non, non. Luccio. Mi fai fare un tipo di cartello. E' un pochino di voi. Non è a teore di Coyote. E' un pochino di Coyote. Il Cabron deve sapere. Non fa un ragazino di Haywood. Sì, non crederai che la mia mamma è il chili, la migliore in città. Ho una delle mie buone sensazioni. Cosa? Cosa? È un tipo di chimica, sai? Vabbè, se si mangia ci sono. E deve essere roba buona però eh, mi raccomando. Oh, I love this town. Love it like you might love a mother who popped you out on the steps of an orphanage once, and now stops you to ask if you gotta smoke for her. Every new day here means a hundred new arrivals. But only half these gods will survive a year. And that's if it's a good one. And why do these peeps come to NC? Well, to be street samurai like Morgan Blackhand and Weyland Boa Boa. The greater the risk, the bigger the mountain kids. Or so they say. But you can only be a major league player for so long. The faster you live, the faster you burn out. If you don't get a bullet to the brain first. Aia. NC's Legends. Know where you'll find most of them? The Graveyard. The Graveyard. Matters not where you're from. Matters not where you start. What matters here is the walk you walk. In Night City. The City of Dreams. Cheek, we're looking for somewhere in this building. Probably crawling with the pendejos the kidnapped her. Eyes and ears open, alright? Speaking of witch... Got you a little something... A little dick training shard... In case you need to... Ehm... Sicuramente, sicuramente, domani, domani Facciamo questo Allora, qui Clicco io? Clicco io? No? Beh È automatico? Figata Clicco 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 Guarda qui, bisogna essere qui Beh, no Fantastico Probabilmente sarà l'unico muro così istruttibile, però è lo stesso figo Sì, era l'unico Però Ah, non lo posso portare Vabbè, vado, vado Sprego i orientini così Beh Ah, ecco come si aprono gli armadietti E io scemo che tiravo di solito Nuovo oggetto Livello 2 Vaffanculo Vado Uh, bello 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 C'è qualcosa di interessante qua? Tutte robe opzionali, scommetto Oh Però bello bello Ok Ok C'è non sembra bene Sandra Dorset NC570442 Traumatine Platinum Platinum? C'è Traumatine dovrebbe essere in se non si C'è C'è un'è Si C'è un'è 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 C'è un'è 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 I'm back. Ai, pobrecita. A scurre off that ice. Jack, we're sharp. Not done yet. Don't know who's out there. Locked and ready, hermano. Do your thing. Ah, fuck. She's flat-lighted. V, need to know what's going on. Jackie, air hypo. Fuck, this is bad. Hey, kids! I think... Holy shit, it worked. Fuera, cabrón. Get her outside. Fuera, get her outside. Terrace. Un bel posicino. Landing, stand clear. Initiating securing protocol. Follow all instructions. Stop in the doorway. Oh, ci sono già. Ok. Va bene. Già, tutta vostra. Ora fate il vostro dovere. 5 steps back. Now. Ma sei stronzo? Ma ti spori un bocca, oh? Sto male educato. TT-133 to control. Patient NC570442 secure. Che posate ste armi, porca miseria. Nessuno. 20-10-melograms dopamine. 110 norepinephrine. 8-0-melograms. 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 Ah, veramente. Let's get out of here. Hello, Peter gets us to the garage direct. No, sei ancora vivo? Oh no, non lo sei. Oh no, non lo sei. No, non lo sei. Sì. E questo non ti nemmeno depredati. Cosa, Mano. Ho questo. Non mi piace se ti prendi le tue ruote? Hmm... E questi non ti nemmeno depredati? Non lo sei, ma non lo sei. Come si? Sì, solo sei un gioco, Jack. Ma non ti senti a casa. Beh, abbiamo preso quasi tutto Non penso che abbiamo preso altre robe O almeno lo spero Andiamo Però prima Un controllo veloce Fucile Questo sembra figo Vabbè, pistone già ce l'ho, quindi Fucile d'assalto sia Magari una di quelle migliore? Magari no Sempre livello 2 Vaffanculo, dai Ah, qualcosa che posso mettere Ma che è incredibilmente scarso Ok, come non detto, vado via Vado a questo già sapevamo come è Fico Ese carico? Oh, sì Difficio in casino Oh, sì Oh, sì Oh, sì Oh, sì Vee How did it go? Our cliente is alive and well Of course he's alive and well That's what we agreed, isn't it? Splendid Your payment awaits you Ready to come and grab whenever you like Even right away But I guess home is the only place you wish to be now The NCPD has surrounded Watson The district is closed If you are to make it past the cordon You must move fast Thanks for the heads up Swing by to see you later What's that? The NCPD is going to put Watson on lockdown If I'm going to sleep in my own bed tonight We better put it in fifth Live to me, mano I'm driving Non me la sfasciare però Bello sto specchietto Per rifiutate proprio tutto Ok, ok You don't believe in no frame Every day diggin' a break Oh, stepping up to what it's nice Oh, city a dream, city a game You don't believe in no frame Can't stop digging night city Oh, city like any other Just bigger No, mano Not just any other city Work in Blackhand Andrew Wayland Adam Smasher Legends are born here Let's grab a tight bike What do you say? Jackie They're locking down Watson Oh, shit Con quanta rabbia Con quanta rabbia C'è qualcosa che non va Oh, no C'è qualcosa che non va Oh, no Eh? Fuckin' drive, Jackie Come on, Vinci Can't keep her steady Oh, no Oh, no Città la madre Vediamo se c'è qualcosa di meglio Pierda, perdone Città la madre Vediamo se c'è qualcosa di meglio Città la madre Vediamo se c'è qualcosa di meglio Pierda, perdone Città la madre Ah, è calc Dogsкая Se laиллиe, 140 Predevo era Dostante È bene Bego Forre Forre Si, crediamo We, ci sono Forre Vp Non 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 bella roba lo voglio lo voglio ora subito che stuva funziona non mi sposte un esforzato solo qualcuno con esforzato può sostenere solo quanto mi necessito per tornare a mia figlia tu è una figlia? si non mi preoccupare è in modo mi chiedo di essere uno Dai! Quanto le cacura! Bel lavoro! Che! E' so... I can be nice when you feel like it. Why am I not nice? Um... always? I'm always never not nice! Come in! 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 Grazie a tutti per la visione ragazzi! E ci vediamo alla prossima puntata! Ciao!